ciao a tutti ragazzi questo è un motore è un 2 cavalli due esempi quindi un po più potente di ciao e di sì ora niente guardiamo un attimino siccome gliela siti domani questo video esce stasera e domenica domani lunedì e la siti ci se ne va al mare con il nostro navigator con il nostro navigator ora questo dopo anni che sta fermo la miscela andrebbe nevata e pulito il carburatore tutti i santissimi anni si smette di farlo di usarlo va bene qui si chiude e vediamo ce la fai a reggire un secondo mentre metto un po di mummo un po di mummo dentro vorrei agire equilibrio segui librista e vabbè basta basta in mezzo del basurio con questo io ci si fa quattro miglia vabbè ragazzi ora vediamo la verità va rego io tranquilla rego io rego io vai ti fai video rego io intanto si tira l'aria si mette su starter si mette su starter qui perché dice la man di buona oh segno buono forse si apre la benzina non sono i video che tutti arrivano buono piglia e parte se non parte c'è un motivo no partiamo a per te ma io lo arreggo ma c'è una chita a peto ma ne immaginiamo e c'è qualcosa con il 1 quadro grazie a tutti Sì, sì, sì. no va a vedere là che c'è scritto la 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 domani si va in mare raga si va in mare funziona sono bravo eh come va si va bene non è tappeso più che altro è questo qui e si raffredda con l'acqua quindi se non va nell'acqua non si raffredda il cilindro perché è raffreddato acqua questo qui no c'è anche il supporto motore niente ora se la titti no così l'ha fatto per diritto no no fa vedere in terra che c'è chiedite che c'è tutte le viti lì e ci deve assemblare ci deve assemblare i coperchi eh cigretto milenio benzina gu power si? dici? va bene ciao raga un salutone buona serata a tutti buon fine domenica e buon inizio settimane settimane settimana ciao raga